Che impatto avrà la pandemia sul comparto turistico montano? Come reagire? Che strategie usare per affrontare la stagione imminente? Dopo stagioni rovinate il comparto si sta preparando alla sfida per il nuovo inverno. Nei giorni scorsi è stato firmato a Milano il protocollo riapertura delle aree sciistiche per l'utilizzo degli impianti di risalita. Sugli sci sarà obbligatorio il Green Pass, bisognerà indossare la mascherina sugli impianti di risalita e la capienza sarà ridotta all'80% in funivia dove dovranno essere aperti anche i vetri per mantenere la giusta areazione. All'interno delle aree sciistiche dovranno essere creati dei percorsi che garantiscano il distanziamento interpersonale di almeno un metro.